Ah, Matteo Mussi, 2015, giornate a suoni da incubo, a Bombazza, aio, rap italiano, vamos, Sì, io davvero non so bene cosa mi sta succedendo in sti giorni, l'unica cosa che mi sto chiedendo, non riesco a pensare ad altro sulla te, a noi, a cosa sarebbe stato, ma tu non lo vuoi, e sono qui dentro senza nessuno che mi vuol parlare, a volte neanche i miei ce la possono fare, infatti veramente da quando non ci sei sulle mie giornate, sono degli incubi e non passano più, se ripensa quando invece eri sempre con me, e ci divertivamo ogni giorno, solo io e te, mi sembra di vivere quelle belle giornate, sono sempre dentro me anche se se ne sono andate, e adesso ti vuoi di qui, ora che sono solo, o comunque se potessi vuoi di prendere il volo, e tornare indietro nel tempo, ad un mese fa, quando tutto era bellissimo, e tu con me eri qua, e sento un gran silenzio, qua dentro la casa mia, mi chiedo c'è qualcuno, ma chi vuoi che ci sia, da quando non ci sei tu, è sempre tutto uguale, e mi manchi tantissimo, credo che sia normale, e non so mai che dire, e non so mai che fare, ma è la posizione in cui ora mi tocca stare, ma sappi che comunque, mi puoi adabbiare, di quello che mai fatto, non potete figliare se... Oh, buona, buona.